Amiche ed amici, benvenuti a LOL. Dieci comici in una gara tutti contro tutti. È un incubo questo gioco. La regola è una, chi ride è fuori. Io sarò l'arbitro per tutte le sei ore dell'esperimento e ammonirò personalmente ogni concorrente che riderà per la prima volta. Finiscilo di fare il divertente. Alla seconda risata lo espellerò, costringendolo ad abbandonare definitivamente il gioco. Dio, ma che divertente. Yeah! Mannaggia! Mi hai fatto ridere dentro. Eeeh, fede! Clamoroso. Iscriviti al canale. Grazie.